Abbiamo governato questo paese per cinque anni, ricordo tutti di cui due di Covid, quindi davvero anni molto molto difficili, ma in questi giorni, esaminando quello che era il programma elettorale del 2019, ci siamo resi conto davvero di quello che abbiamo costruito in questi soli tre anni. Abbiamo realizzato veramente delle opere che erano importanti per Monselice, reso servizi, dato risposte ai cittadini, lavorando ogni giorno con determinazione, passione e con l'unico interesse di fare il bene di Monselice. Scioglie gli indugi Giorgia Bedin e si presenta per il secondo mandato di sindaco di Monselice, un mandato di continuità per portare a termine le opere iniziate. Completare le opere che oggi sono in corso e quindi realizzarle, metterle a terra definitivamente. Abbiamo molti cantieri aperti, oggi come oggi, sicuramente un'altra cosa molto importante è la riqualificazione dell'area Exet al Cementi. Noi siamo riusciti a ottenere, dopo tanti annunci di chi ci ha preceduto su Masterplan, idee fantastiche, meravigliose, mai porta da terra, siamo riusciti a ottenere una proposta di accordo pubblico-privato che prevede la riqualificazione dell'area e soprattutto l'intera demolizione dell'edificio industriale. Avvocato, 45 anni, appena compiuti, moglie e madre di due ragazze. Tra gli obiettivi del suo secondo mandato, quello di realizzare il secondo casello dell'autostrada. Come 5 anni fa, Giorgia Bedin parte per la sua corsa a primo cittadino con il supporto della Lega e di alcune liste civiche. Oggi presentiamo la candidatura a sindaco e in questo momento la squadra è composta ovviamente dalla Lega che ha riconfermato la sua fiducia nel sindaco uscente e da tra liste civiche, di cui due sono quelle che mi hanno già sostenuto nel passato, con le quali ho lavorato benissimo in sinergia facendo squadra davvero in questi anni e un'altra lista nuova, però le carte si tirano fuori anche un po' alla volta.